ciao a tutti amici youtube e ben ritrovati ad un nuovo episodio qui su my dire games oggi continuiamo la serie su slenderman shadow per i giochi o sbagliato livello o porca maia la cosa ho scelto sanatorio ok allora va bene uguale dai allora non volevo scegliere un altro però penso questo va bene va bene uguale va bene uguale anche se l'abbiamo molto osceno quindi veramente brutto uno dei più brutti video uscito da questo canale allora ho una pagina già trovata mo allora è una è presa è nostra slenderman dove sei i bagni oh entra che è una pagina oh si è occupato c'è una merda dentro no che schifo no ma come era una merda veramente wow mi osserva no si va da vedere slendy che mi osservava vuoi non fare questi versi non ballare ballando con le torci tre pagine diciamo che il che il lampo ma è il legno si il legno il leone sto perdendo la sanità mentale sanatorium ci devo oh non è una pagina brutta pagina troll ah c'è un'altra anche madonna madonna che velocità oh tutto troppo bene sta andando non fare quei versi porca di merda sapevo devo comprare le file buone devo comprare le dure ai cinesi invece devo comprare le file dai cinesi che durano un secondo oh questa no so che non c'è però sapevo d'arte c'è cazzo oh signore che cazzo di paura oddio mi sa cazzo che faccio si mi faccio oh porca maiala che spavento all'improvviso un pedofilo che si rispetta non ho scoreggiato penso che tutti devano saperlo allora ah la c'è quella specie di opera ma che è lì dentro lì dentro una specie di opera di arte moderna con questo anche il primo video non riesco a raccapezzarmi di che cazzo sia questo affare che flutto qua c'era la pagina e se il gioco non mi inganna e mi ha ingannato pezzo di merda prima c'era la pagina lì magari è qui è qui infatti allora una su otto madonna c'è una nebbia strana allora no no che cazzo fai vai qua segui il tuo istinto ci diventa il leone no 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 c'è qualcosa no e allora ciao luce come stai allora qua c'è la pagina troll che non è una pagina ma è soltanto una una texture no vaffanculo mi ha ingannato ancora anche qui ce n'era una prima lui è lui no no di giallo perché ti scomodi a venire dopo una pagina e basta anche dopo là ce ne so poche slender eh no i rumori non mi piacciono quindi no 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 basta eh chi sa di Finisce qui anche il nostro episodio odierno No, il primo spavimento mi ha segnalato la vita La prossima volta cerco un'altra mappa Qui da me è arrivato subito da voi che ci avete visto E da... Non tocca la rompa a me pannolini Ciao a tutti No, basta, veramente